Dai a salire, dai a salire! Bravo! Dai ragazzi! Vede, 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 vede! Vede, vede, vede! Le gambe, le gambe! Le gambe! Colto! Dai ragazzi, blocca! Dai vicini, vicini! Dai, dai, un drifica bella partita! Bravi, bravi! Dai, porto! Eh sì, se ti te li spetti quei tre metri c'è un pavereo città. Sì, non ho aspettato la pavereo città. Sei iniziata! Chiudi tanto s Instin 1, no? Com'è, condimando volete i canali, tristine le portazioni un wirzate點 Today. Uno è il primo Frage. Noi va! Noiмо! Noi1, nostro Frage. Ma chi lo va i calciando? Tu non è una papilla nuove in trencia? Precazzino! Ilchino. Ciamool? Non sei. prostu poco san failed. Grazie a tutti. Sostegno dietro!